Ti senti, sentirai anche allo studio. Ah ma sei fortissimo! Bravo! Grazie, 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 grazie. Hai fatto il botto, come si suol dire, i botti, veramente. Mamma mia. Bravo, bravo, bravo. Non ci posso credere, non ci posso credere, grazie. Cioè, ecco, quando hai visto quel numero, quegli ascolti, cosa hai pensato? Dimmi la verità, tanti sacrifici, tanta fatica, ben ripagata? Guarda, Eleonora, è la costruzione di un festival che parte, come tu sai, dall'estate in maniera proprio certosina, meticolosa, tanta fatica. Percori delle strade magari nuove e non sai finché non hai risultati se quelle strade che uno percorre sono giuste. E soprattutto sono felice per i cantanti, per la musica, per il pubblico a casa che ha ascoltato delle belle canzoni e altri ascolterà questa sera. E Sanremo ne avevamo bisogno anche perché abbiamo trascorso due anni pesanti, ancora non siamo fuori da tutto quello che sappiamo. Però abbiamo bisogno di un po' di leggerezza, abbiamo bisogno di musica e di stare insieme. Certo, allora, quando sei sceso dalle scale ieri sera, all'inizio, prima ti ho visto molto emozionato, poi c'è stato proprio, sai, in televisione i secondi sono un'enorme età. Però in quel momento, visto che ti sei proprio goduto, pochi secondi però ti sei goduto quello che vedevi. Intanto il pubblico che tu avevi davanti a te, che l'anno scorso non c'era. Pensa, no? Come dire, in un anno anche le cose come sono cambiate, sono anche sicuramente migliorate. Però ti ho visto che veramente hai... è come se ti fosse passato un anno davanti a te in quei pochi secondi, è vero? Ho visto bene? Anche adesso, eh? Anche adesso. Sì, no, no, è così, esattamente così. E quando ci penso, mentre me lo stavi raccontando, veramente ho... Sai, noi che abbiamo fatto, saremo l'anno scorso in cinque sere senza nessuno, ma senza nessuno a teatro, senza nessuno in giro per la città, senza nessuno inviato. Era un'altra cosa, era quasi spettrale. Poi è stato, saremo importante per la musica, i mani, tutto quello che sappiamo. Però era faticosissimo non avere un pubblico di fronte. Quindi entrare e sentire quell'applauso, solo se ci penso mi commuovo ancora. Ci commuoviamo anche noi, davvero. Allora, vediamo l'inizio della serata di ieri, Ama, e poi parliamo del tuo ex amico, Fiorello. Ok. Guardate. Ciao Ama, sai chi sono? Sono il tuo ex amico, ex amico Ciuri Rosano Fiorello. Quello dell'anno scorso, girafoglio. E anche quello dell'anno prima, girafoglio. Quest'anno ti avrei visto volentieri da casa, ma tu non me lo hai permesso. E quindi, voltati, guarda verso la scala e poi girafoglio. Ma chi pensavi di trovare lì, eh? Mica posso scendere le scale come una Lady Gaga qualunque. A proposito, prima di girare foglio, sai chi ti saluta? Non lo posso dire. Giro a foglio. Però, carissimo Ama, due cosine da dirti le avrei e quindi presentami come solo tu non sai fare. Giro a foglio. Giro a foglio. Fai cambiare sottofondo perché questo ci ha un po' sfranto i cosiddetti. E fai partire una base incalzante. E ora leggi il Gobbo. Cosa c'era scritto lì? Quel biglietto? Ama, che non ci potevi dire. Quello che tutti possono immaginare, no? Sai che l'Italia intera l'ha detto in coro. Ma la cosa incredibile, siccome io sono miope, non sapevo quello che c'era scritto sui foglietti. Ho detto, mi raccomando, qualsiasi cosa scrivetela leggermente grande. Quindi loro mi hanno scritto le frasi, che l'ho mostrato alla telecamera, erano in piccolo, ma riuscivo a leggerlo. Mentre quella parola era scritta così a caratteri cubità. Quindi quando ho girato foglio mi sono trovato. Però è così, lui è così. Senti, ecco, la grande amicizia che ha visto anche quest'anno, Fiorello, nella tua prima serata di questo festival, di grande successo, è un'amicizia che vi lega da tanti anni. È un grande affetto e anche una grande stima reciproca, Amadeus. Sì, noi ci conosciamo da 35 anni, insomma, dico sempre da quando siamo arrivati tutti e due a Milano, lui dai villaggi, io da Verona, era l'85. Quindi veramente ci conosciamo da tanto tempo. Ed è sempre, c'è sempre stato un rapporto molto forte tra di noi, molto stretto, anche se poi non abbiamo lavorato molto insieme, se non all'inizio, in radio, eccetera, eccetera. Però ci vogliamo molto bene e soprattutto lui c'è nei momenti importanti, fondamentali della mia vita, quando sono arrivato in Rai tanti anni fa, quando ho fatto altre cose. Lui c'è sempre. E poi ci troviamo così a nostro agio, nel senso che lui non mi racconta mai niente, ma è sempre stato così. E a me questa cosa piace perché la sua imprevedibilità è assolutamente geniale. Stasera ci sarà? No, no, stasera c'è Checco Zalone. Stasera c'è Checco Zalone. Quanto a imprevedibilità devo dire che stasera anche Checco, secondo me, questa sera ci mostrerà delle cose particolari. E Checco Zalone non è mai stato al Festival di Sanremo. Ecco, vedi. Senti, hai fatto un cast strepitoso anche quest'anno. Quest'anno ti sei proprio superato. Hai messo insieme dei cantanti, anche, insomma, dei fondatori, chiamiamoli così, di tanti Sanremo di successo, insomma, della storia di Sanremo, e molti giovanissimi, molti giovani, cioè già big, ma comunque giovani. E' come se tu avessi accordato insieme tante generazioni, no? E anche tanti gusti musicali. Ad esempio, sono aumentati tantissimo gli ascolti digitali. Lo sappiamo che da un po' anche gli ascolti dei programmi verranno segnati anche da un punto di vista digitale, non solo con gli ascolti, lo share a cui siamo abituati. Ecco, come valuti questi dati e come hai pensato poi a questo cast stellare? Guarda, i dati sì, sono assolutamente importanti. Sai, la televisione piano piano sta cambiando, nel senso che ci sono i cosiddetti terzi schermi o secondi schermi, cioè non è solo la televisione, ma oggi, per esempio, un ragazzo attraverso un cellulare, attraverso un computer, eccetera, eccetera, può seguire un programma, una manifestazione. Quello va rilevato perché poi esiste e questo è un dato molto importante che noi faremo quest'anno. E' chiaro che questo vuol dire una presenza di giovani maggiore, perché poi Sanremo, secondo me, deve essere attuale. Io l'ho pensato fin dal primo momento, cioè deve essere un festival che rispecchia poi i gusti musicali di tutti. E per attuale intendo anche Morandi, Raniere e Iva Zanichi, così come è stata Orietta Berti l'anno scorso, più attuale di Orietta Berti, l'avete visto, o Rita Pavone il primo anno, perché fanno parte della storia della musica, ma sono attuali. Ognuno di loro ha portato una canzone che ha avuto successo, che lì rappresenta in pieno e quindi è bello vedere Massimo Ranieri e San Giovanni insieme, o Massimo Ranieri e, che ne so, Matteo Romano, Gianni Morandi, perché sono felici gli uni di stare con gli altri. E questa è la cosa bella, ma io li ringrazio perché loro mi hanno portato dei brani e quando li ho invitati hanno accettato il mio invito, non era scontato, quindi li ringrazio. Tra l'altro c'è anche Noemi che ti sta guardando. L'ultimissima domanda, la prima serata, questo grande successo, a chi lo dedichi? Lo dedico alle persone che l'hanno fatto con me, lo dedico a tutta la RAI, perché veramente ha fatto un grande lavoro, lo dedico ovviamente alla musica, perché è la vera protagonista del Festival di Sanremo. Ama, sei fortissimo, veramente, siamo con te, forza, sei... Grazie, grazie, un bacio grande a te e a tutti i tuoi ospiti. Grazie, a presto, ciao Ama, grazie, grazie infinite.